L'Associazione Nazionale Carabinieri Avarese nasce il 21 giugno del 1923, quindi ci stiamo avvicinando e stiamo entrando nel nostro centenario. Nasce un po' prima a Milano come società di mutuo soccorso nel 1886. L'obiettivo era proprio creare una continuità tra l'arma in servizio e l'arma in congelo. Quindi Milano fine 800 e a Varese si costruisce questa nuova realtà nel 1923. Sono passati ben cento anni e devo dire che in cento anni abbiamo fatto proprio tante cose. Il nostro motto nei secoli fedele risponde perfettamente a quello che poi è lo spirito del carabiniere. Durante il servizio si svolge l'attività, si spera nel migliore dei modi. Quando si termina il servizio il legame con l'arma rimane fortissimo. Rimane forte perché indubbiamente essere carabiniere vuol dire avere dei principi, vuol dire avere dei valori, vuol dire aver fatto anche un percorso molto importante nella formazione. Quindi il congedo in realtà non è una vera fine ma è un passaggio ad un altro tipo di attività che è quella associativa. E quindi noi come associazione portiamo avanti tutto ciò che abbiamo fatto anche durante il servizio.